La Roma è una cosa che è tua, è una cosa personale. La senti una cosa tua. Mi fa sentire male. Io me la sogno pure la notte. Io sono lupacchiotto. La Roma si discute, si ama. Perché essere romano significa essere romanista. C'è a noi pensato a dedicare una pizza alla Roma? Cioè, hai mai pensato? Ma è uno dedicato alla vita, già. Ma quello è vero, abbiamo dedicato una vita. La Roma è tutto, sono quelle cose che tu dici, le priorità nella vita. Uno pensa alla famiglia, mamma, fratello, papà e poi c'è pure la Roma in mezzo. Mi piace il tifo della Roma, mi piace come avviscerale questo rapporto tra noi e la squadra, perché la curva è a decore. Essere un romanista significa avere una grande passione. Provoca quelle sensazioni veramente forti. Il nostro mondo, la nostra Roma. Provoca revealed